Volete scambiare la pancia e la ciccia con un corpo scolpito a tartaruga come questo? Avete sempre sognato di ottenere un corpo snello in forma sexy e senza fare faticosi esercizi e dover usare noiose macchine da fitness? Beh, adesso potete ottenere tutto questo grazie a Gymform 6-Pack, il nuovo rivoluzionario sistema per gli addominali che è così potente che può svolgere un allenamento intenso e completo in soli 10 minuti. Gymform 6-Pack usa l'elettrostimolazione muscolare comprovata scientificamente per lavorare tutte e sei le fasce addominali contemporaneamente, contraendo e rilassando i muscoli così velocemente che vi sembrerà di fare 400 addominali al minuto. Altri modelli EMS sono ingombranti e impediscono la mobilità con un groviglio di cavi. Inoltre hanno bisogno di appiccicosi gel per attaccare gli elettrodi al corpo ed hanno bisogno di un cuscinetto per ogni fascia muscolare. Ma Gymform 6-Pack combina tutto in un unico prodotto. È leggero e compatto così che potete usarlo ovunque ed in qualsiasi momento. Gymform 6-Pack fa lavorare i vostri addominali così intensamente che vi assottiglierà la vita rafforzandovi il tronco in meno tempo e con meno fatica di quella che vi occorrerebbe facendo migliaia di addominali alla settimana o usando altri modelli EMS. Gymform 6-Pack è ideale per persone di tutte le età e livelli di forma ed è il modo più rapido per rimettervi in forma smagliante nel lasso di tempo più breve. Vi rassoderà, tonificherà e scolpirà gli addominali donandovi quella tartaruga sexy in poche settimane. Garantito o sarete pienamente rimborsati. Altri modelli EMS potrebbero costare centinaia di euro ed una serie di trattamenti professionali di elettrostimolazione potrebbero costarvi migliaia di euro. Ma ora, con questa esclusiva offerta televisiva, potrete avere il Gymform 6-Pack al prezzo incredibilmente basso che vedete in sovraimpressione. Ma aspettate! Chiamate ora e riceverete questa mini unità a due elettrodi gratis! Con questa unità potrete allenare i bicipiti in 4-4-8, tonificare le braccia, modellare le gambe e le cosce, eliminare le maliglie dell'amore, rassodare e tonificare i glutei e scolpire il petto, per mettere il resto del corpo in forma. Ma aspettate! Chiamate ora e vi manderemo anche la guida nutrizionale di Gymform 6-Pack gratis! È pieno di ricette deliziose e salutari che vi aiuteranno a perdere quei chili e quei centimetri indesiderati ancora più in fretta con il vostro Gymform 6-Pack! Perché sprecare tempo sudando e faticando con esercizi e macchinari che vi deludono? Ottenere addominali a tartaruga ed un aspetto fantastico non è mai stato così semplice! Chiamate per informazioni su Gymform 6-Pack ora!